posizione. Oggi è venuto allo scoperto. Io all'inizio, quando avevo criticato Grillo, avevo criticato il Movimento 5 Stelle perché non avevano acciottato di fare un governo con il PD, di dare i loro voti per avere la maggioranza, ho riconosciuto di avere sbagliato, di avere sbagliato, perché non si può costruire niente sulle macerie. E questo, prima di tutto, prima di costruire qualcosa, bisogna spianare con un caterpillar le macerie di cui è disseminata il nostro Paese, la nostra Repubblica, le macerie morali di cui è disseminata. Abbiamo una classe politica che pensa soltanto a mantenere il proprio potere, a gestire i propri interessi. Non è in quel posto per gestire il bene pubblico, pensano soltanto ai propri interessi. E se questa classe politica non viene completamente azzerata, le cose non potranno cambiare.